ciao a tutti amici e amiche benvenuti in questo mio nuovo video volevo anche io dare il mio contributo alla pasqua e mio marito non collabora e ha detto dai facciamo un video un po simpatico sul che apriamo l'ovetto e tu apro l'ovetto perché ieri siamo andati al supermercato c'era questo vetto che non è non è di marca né niente è più economico che esiste però da brava bimba un po diciamo come si dice da brava bimba come si dice bimba un po attempata si può dire non collabora non vuole proprio vabbè comunque io mi sono presa questo qui l'ho preso al carrefour ed è chocolate passion al latte con sorpresa ma che ricordi queste cose qui ultimamente mio marito mi regalava come non mangia so che collabora un po a mangiarselo ultimamente mio marito quando mi voleva bene mi regalava il bacio il rovetto del bacio perugina è finito il film no però quest'anno mi ha regalato tantissimi fiori allora oggi è che sto registrando questo video è venerdì infatti è lo stesso stessa maglia del video della decorazione della settimana cosa c'è allora andiamo a vedere che cosa c'è di bello in questo vetto dai che così poi finalmente mi mangio la cioccolata che ultimamente la dieta la infrangiamo via allora ecco qui allora vado a aprire che strana ripresa allora via uno e via un uomo più scaloso e lo metto dei poveri ma almeno c'è meglio che niente sta da che bello questa carta ma non si butta mica questa carta ma scherziamo via ah sembrava enorme sembrava grandissimo allora tata mossa di karate no madonna è duro allora mossa di karate dai dai un pugno tu 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 dai oh stada che cos'è sembra che cos'è sembra gli zampironi ma che cos'è sta bene un tiro a segno allora vedete qua ce l'ho detto per un po' di cioccolata qui ne ho e la sorpresina è una schifezza dovrebbe girare dovrebbe girare aspetta che meraviglia giocheremo tantissimo con questo cioccolato anche lui ok benissimo allora la cioccolata però è buona questo meraviglioso giocattolino e pure attaccato l'adesivo al contrario andava da quella parte sì ha sbagliato a montarlo e sì perché di cui è difficile farlo girare ha montato una cosa doveva fare attaccarlo da questa parte e lui era attaccato da questa quindi non si riesce neanche a chiappare il e io come faccio a giocare adesso ok allora io adesso è buono è buonissimo il cioccolato adesso io posso uccidermi di cioccolata finalmente e niente tutto questo per augurarvi una buonissima Pasqua a tutti Pasqua e Pasquetta buona festa buona Pasqua ciao buona Pasqua a tutti ci vediamo nel prossimo video vi mando il mio solito mondo di baci e tanta positività ciao al prossimo ciao ciao